Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Dà alla luce un bambino di quasi 6 chili attraverso un parto naturale e senza epidurale. Nicolina Nikombe, è una donna di 33 anni della Nuova Zelanda che ha dato alla luce il suo secondo figlio di nome Tobias senza immaginare che sarebbe stata protagonista di tante notizie. Il bambino, di nome Tobicon con accento acuto AS, è nato con un peso di 5,89 kg, attraverso un parto naturale e senza anestesia epidurale. La coraggiosa madre è di altezza media e peso normale, proprio come il suo compagno, è sorprendente che il suo piccolo fosse così grande. Il padre del ragazzo, Yami, 27 anni, è rimasto scioccato quando ha visto suo figlio per la prima volta. Tobicon con accento acuto AS è nato al Vaikato Hospital in Nuova Zelanda la scorsa settimana. Aveva le dimensioni di un bambino di 3 mesi, quindi i suoi genitori hanno dovuto smaltire i vestiti che avevano comprato per le sue prime settimane di vita. Dopo la nascita si sono dedicati a rinnovare il suo guardaroba con abiti che lei potesse indossare. Anne Careid, che ha assistito Nicolina nel parto, ha soprannominato il bambino Ercole per la sua forza. Ha assicurato di non aver mai visto un bambino nato di quelle dimensioni durante tutti gli anni in cui ha praticato la sua carriera. Ricordo che l'ho guardato nel grembo di sua madre ed era solo un bambino enorme. E quando l'ho preso in braccio dopo la nascita era molto pesante, ha detto in un'intervista rilasciata a un media locale. Alcune madri a cui viene diagnosticato il diabete gestazionale hanno un'alta probabilità di dare alla luce bambini sovrappeso, ma non era questa la causa della statura di Tobias. Durante la gravidanza, Nicolina è stata sottoposta a esami del sangue che hanno confermato che non soffriva di questa condizione. I medici affermano che la causa delle dimensioni del bambino potrebbe essere associata alle dimensioni della madre, che è alta 1,75 metri. Sage, il fratello maggiore di Baby Hercules, ha 14 anni ed è nato con un peso di 1,9 kg. La madre non aveva pensato che Toby con con accento acuto a sarebbe stato così grande, ma è grata di aver affrontato il parto senza saperlo. Penso che il fatto che non sapessimo della sua taglia sia stata una benedizione in un certo senso, perché penso che se lo avessimo saputo. Ci sarebbe stata molta pressione per lei per essere partolita tramite taglio cesareo, ha raccontato Nicolina. Inoltre, ha espresso la sua ammirazione per il medico che l'ha assistita nel parto perché non ha mai avuto paura delle dimensioni del bambino, trasmettendo fiducia e forza. Da quando la sua storia è stata trasmessa sulle reti, ha catturato l'attenzione di migliaia di persone che, sorprese dal coraggio di questa madre, non se ne vanno senza condividerla. Benedizioni